Buonasera a tutte e tutti, ciao e benvenuti a questa lezione, a questo incontro, a quest'oretta che passeremo insieme a parlare di punteggiatura. Punteggiatura che vuol dire ritmo, vuol dire melodia, vuol dire suono, vuol dire sintassi, vuol dire struttura di una frase e quindi a campo largo anche struttura letteraria di romanzi, libri, testi. So che sono le sei e mezza, me ne rendo conto e voglio darvi innanzitutto questa fortissima rassicurazione che spero suoni come una promessa. Cercheremo di rendere questo discorso un po' più brioso, un po' più divertente rispetto alle lezioni di grammatica e uso della grammatica che immagino abbiate frequentato tutte e tutti alle scuole elementari, quindi questo ve lo prometto. E in secondo luogo, prima di entrare un po' nella polpa del nostro discorso, partiamo da una premessa che è proprio il mio credo fondamentale, cioè che la punteggiatura e i segni di interpunzione e la sintassi, quindi sono delle cose importanti e non sono questioni di lana caprina, non sono dei rovelli perfeticisti della lingua, cioè non lasciamo la punteggiatura in mano ai cosiddetti grammar nazi che si imbufaliscono per le virgole tra soggetto e il verbo e per quando non viene rispettata nella sua esattezza così come viene insegnata a scuola. Luca Serianni è cito un pezzo uscito sul posto molto bello di Marco Rossari pochi giorni fa che ha come argomento proprio la punteggiatura. Ecco, Luca Serianni viene citato in questo pezzo, il grandissimo professore da poco scomparso e dice così, tra le varie norme che regolano la lingua scritta, quelle relative alla punteggiatura sono le meno codificate, non solo in italiano. Ecco, questo è vero, però forse anche a livello di sistema scolastico un ABC, un prontuario, una primissima cassetta degli attrezzi per come utilizzare la punteggiatura ci viene fornita. È vero che spesso leghiamo la punteggiatura appunto un sistema di restrizioni, di codici, di norme da seguire pedissequamente, quindi anche un'idea di gabbia e quindi di noia. E mi rendo conto di quanto questa cosa sia sbagliatissima. Però ci rendiamo conto, soprattutto con il passare del tempo, degli anni, maturando le nostre esperienze da lettori, che quel primo ABC, quella prima infarinatura, in realtà è una piattaforma di partenza niente male da cui partire. Quindi squadriniamo proprio un po' di regole base, tra cui appunto la precedente, che è una regola aurea, è un po' antipatica, cioè no virgola tra soggetto e verbo, ma sono le prime e ultime regole che darò. Più che di regole parlerei di specificità e di modi d'uso. I due punti che segnano l'apertura del discorso o l'elenco o la proprietà della virgola, che segna una pausa e che può, anzi modellata, a seconda di chi la sta usando, raccontare un inciso, segnare un sussulto, un ondeggiare del testo e, non a caso, il segno di interpunzione per eccellenza, insieme al punto che è fondamentale per ovvie ragioni, ma in letteratura ci serve per definire il più grande bivio, la più grande biforcazione, quando si ragiona anche prima della critica letteraria, su come è fatta una certa scrittura di un certo libro che leggiamo. La paratassi o l'ipotassi? La frase secca, breve e ferma, oppure le subordinate, gli ampi giri di frase, le relative. Ecco, il punto ci dice paratassi, la virgola ci dice ipotassi. L'ego alla punteggiatura, questa è una cosa a cui tengo molto, ed è proprio la pietra angolare di tutti questi discorsi che faremo e di questi bei libri di cui leggeremo alcuni passaggi. Ecco, lego alla punteggiatura e ai segni di interpunzione un sacco di metafore, di immagini, di figure e di similitudini. Quella principale è questa, cioè immaginate l'impalcatura di un edificio, l'architettura silenziosa, il cemento. Dimmi come punteggi e ti saprò più o meno indovinare nella scrittura, saprò supporre che tipo di autrice, che tipo di autore sei, cosa ti piace, come organizzi la tua pagina. Ecco, la punteggiatura, i segni di interpunzione sono ordine, però sono anche genio, sregolatezza, come vedremo. E' pur vero che faremo un discorso di ambito squisitamente letterario, perché è questo quello di cui mi occupo e tra l'altro mi rendo conto adesso che non mi sono ancora presentato, quindi è una cosa gravissima a cui vorrei porre il rimedio. Mi chiamo Matteo Fontanone e lavoro come editor alla narrativa italiana dell'Einaudi, quindi mi occupo di romanzi, di fiction e nello specifico, occupandomi di romanzi, di fiction, ho molto a che fare tutti i giorni della mia vita con i segni di interpunzione e quindi ho misurato su di me un certo gusto e poi l'ho modellato, l'ho affinato e soprattutto ho degli ottimi interlocutori quotidiani con cui parlarne, perché ho la fortuna di lavorare con bravissime scrittrici, bravissimi scrittori che mi dicono la loro e giorno dopo giorno mi insegnano il loro modo di pensare, la punteggiatura, di pensare il ritmo, di pensare il suono di un libro. Questo però per dire, questa era una mia bravissima presentazione, però a monte, ancora prima di addentrarci in queste faccende letterarie, è giusto segnalare come in realtà una buona organizzazione della punteggiatura, saperla padroneggiare serve sempre, cioè che voi siate, che voi in ascolto siate dei copywriter o dei content creator o che vi serva per scrivere bene un atto, insomma, se lavorate in ambito giuridico, oppure, non lo so, anche per scrivere un qualsiasi manuale di istruzioni o per comunicare bene o per scrivere un post su threads o su Reddit che vi suoni. La punteggiatura, quindi, ripeto, la sintassi e l'organizzazione del pensiero è fondamentale. Si diceva di organizzazione del pensiero perché in realtà, ecco, è questo. In base alle pause, in base all'andamento, al ritmo, alle accelerate e alle frenate improvvise, si capisce tantissimo di cosa uno ha in testa e di come uno scrittore ragiona, dell'impronta che uno scrittore vuole dare alla pagina. Il nostro discorso, come vi ho anticipato, sarà molto letterario e quindi andiamo. Vi anticipo subito che non avremo tanti punti di tangenza con la poesia perché sulla questione del suono, del ritmo e dell'uso dei signi di interpunzione nella poesia ci sono accademici che impiegano carriere, carriere e vite, quindi è un ginepraio e noi ne stiamo molto molto alla larga. Per il resto, ecco, mi piaceva iniziare a continuare a leggervi un po' di cose, un po' di frasi anche abbastanza epiche e iconiche sulla ponteggiatura. Nello specifico parliamo di Carlo Emilio Gadda, che poi ritroveremo anche più tardi, leggeremo uno stralcio del pasticciaccio. Però, ecco, quando si parla di letteratura, la ponteggiatura non sempre deve sottostare alle regole che ci siamo detti e che la grammatica italiana e il buonsenso ci forniscono, nel senso che subentra in gioco il fattore dell'autorialità e quindi del gusto e quindi velatamente della critica letteraria, dei pareri personali, del sentire profondissimo di ciascuno di noi che, in questo caso, che scrive. È molto arbitrario, è un terreno friabilissimo e ha molto a che fare con una sfera personale della scrittura, perché è l'impalcatura, come dicevamo prima, del pensiero. Questo per ribadire quanto sia fondamentale. Ciò non toglie che, di fronte a una pagina tutta storta o che semplicemente non ci suona in testa, ci si possa anche imbizzarrire. E qui arriviamo a Gadda. Gadda che diceva, a proposito di un libro che non ci è dato conoscere, una vaga disseminazione di virgole, di punti e virgole, buttati a caso, qua e là, dove vanno vanno, come capperi nella salsa tartara. Ecco, questo per dirvi che la punteggiatura è un qualcosa di vitalissimo. Ci si può accapigliare, ci si può innervosire, come l'ingegner Gadda appena fatto, quando ci troviamo di fronte a una pagina che proprio non ci suona e che non ci parla, che non ci convolge, o anzi, ancora peggio, che ci sembra tutta storta e sbilenca, come una di quelle stamberghe fatte di niente, di quattro assi di legno impilati, inchiodati. Dicevamo, il ritmo, la sintassi, la punteggiatura. Il ritmo per chi scrive, e chi scrive lo saprà bene, è benissimo, è tanto, è quasi tutto. Certo, è vero, bisogna prima avere un po' di materiale in ballo, no? Bisogna avere una storia, bisogna avere una certa idea di come usare il proprio lessico, bisogna avere anche, di fronte a libri poi mastodontici, una gamma, un ventaglio di parole preferite. Però bisogna sapere fare tante cose per scrivere un romanzo, disporre gli elementi, calibrare la trama, costruire, allestire l'intreccio, è una questione di dosaggio, di equilibrio. Però, 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 a monte rimane la pagina, rimane la frase, rimangono i connettivi tra una frase e l'altra, e non esiste un connettivo migliore nella lingua scritta che il segno di interfunzione. Oltre al ritmo, la punteggiatura, tra l'altro, è espressiva, è indice, è vettore di espressività. Pensiamo, ad esempio, alla secchezza di un punto fermo in un discorso diretto, quando non ce l'aspettiamo. Un personaggio sta parlando a un interlocutore che ha ritrovato dopo tantissimo tempo ed è entusiasta, ricorda i vecchi tempi, però qualcosa tra di loro è cambiato. E allora che succede? Il punto fermo. Di fronte ai punti esclamativi del personaggio A, i punti fermi, i tombali, cimiteriali del personaggio B. Questo è uno degli esempi possibili. Oppure, ecco, a proposito di esempi, prendo in prestito un pezzo uscito la scorsa estate, su doppio zero, a firma di Isabella Pasqualetto, che è traduttrice e critica letteraria. E in questo pezzo fa notare un passaggio rivelatorio, cruciale, e secondo me bellissimo, da Cime Tempestose, che è un libro che suppongo in molte, molti di voi abbiate letto, o che comunque più o meno conoscete per sentito dire. E il capolavoro di Emily Bronte racconta di due case che si guardano, sono separate da un po' di chilometri di Brughiero, si sviluppa tutto lungo questa linea retta, da una casa all'altra, è un'oscillazione, un pendolo continuo. A un certo punto Catherine, che è una delle protagoniste, anzi la protagonista, per varie circostanze si trova a dover passare qualche mese, non a casa sua, che è Wuthering Heights, ma a, mi perdonerete la pronuncia, a Tashcross Grange, che è la casa dei nobili, di rimpetto a quest'altra famiglia, una casa è la luce, l'altra casa è il buio, Wuthering Heights è la parte scomposta, urlata, e l'altra casa, invece, Tashcross è il luogo in cui tutto è in armonia, in cui c'è pace, in cui ci si vuole bene, senza sussulti, senza scossoni. Ecco, qui nel passaggio che vi leggerò, vediamo come tutti i piani diabolici del cattivo più cattivo per eccellenza, che è Heathcliff, nascono in realtà da una virgola. Uso la nuova traduzione nei Supercorali Naudi di Monica Pareschi. E leggiamo. Qua è Catherine, che per la prima volta dopo mesi vede Heathcliff e gli si rivolge. Prestate molta attenzione perché, secondo me, è piuttosto incredibile. Gli dice, oddio, come sei nero, e che broncio, e che aria losca e buffa che hai. Ma è perché ormai mi sono abituata a Edgar, virgola, e a Isabella Linton. Ecco, capite come questa virgola, dopo Edgar, isoli Edgar. Lo isoli e lo certifichi, e lo autentichi nella sua eccezionalità rispetto alla sorella Isabella. E quindi nella sua eccezionalità, nel cuore, nella memoria, nei pensieri di Catherine. Ed è questa virgola, se vogliamo romanzare un po', che attiva il lato demoniaco di Heathcliff. Qualche anno dopo, Charlotte, la sorella di Emily Bronte, si sarebbe occupata di un lavoro di riscrittura e di editing, possiamo dire. La sua sorella usava fin troppe virgole, e quindi Cime Tempestose è stato, per così dire, normalizzato. Questa virgola qua era stata tolta. Ed è un peccato mortale, perché una virgola, in questo caso, è una sofisticheria, una sottigliezza, è anche un'altezza letteraria così incredibile, che qui, su una semplice, piccolissima e innocua virgola, possiamo dire che si incardina tutto il libro. Ecco, a me sembra una cosa piuttosto straordinaria, diciamo. E ecco, dopo questa premessa, dopo questi discorsi introduttivi, iniziamo a porci un po' di domande. Quindi, come si acquisisce? È una domanda che io mi sono posto spesso, perché, soprattutto negli anni della formazione, un lettore è piuttosto ondivago, quindi è vorace ed è onnivoro, legge qualsiasi cosa, però poi da lì alla formazione del gusto passa un po' di tempo, e passano un po' di letture e di scelte. E quindi io mi sono sempre chiesto, ed è una cosa che a volte mi chiedo tuttora, e che continua a interrogarmi molto su, ovviamente, ritmo, suono e sintassi e punteggiatura, ma anche sulla letteratura a campo largo. Come si acquisisce, oltre che dimestichezza o un proprio gusto, come si fa a riconoscere, che forse è qua la domanda di rimente, come si fa a riconoscere quando un'autrice o un autore sanno usare i segni di interpunzione con maestria? Cioè, come distinguiamo un normalissimo punteggiatore, senza arte né parte, che fa il suo, ma che magari è verosimile, succede, continuerà a succedere, non presta all'interpunzione tutta l'attenzione dovuta, o a altri interessi, altri fuochi sulla pagina. Secondo me è un'eversione, però capisco che possa succedere. Ecco, come si distingue un normale punteggiatore da un punteggiatore di razza, mi domando? Non credo esista una risposta granitica, è certa. Così come non esiste una risposta granitica, è certa, a un'altra domanda, ovvero come distinguo una buona punteggiatura, un buon uso della punteggiatura, e quindi una buona articolazione della sintassi da un'articolazione della sintassi così così. Ecco, non ci sono regole auree, e quindi qua torniamo forse a Serianni, che in parte aveva ragione. Abbiamo un bagaglio, però è molto avviluppato in noi stessi. Abbiamo una serie di regole, le usiamo, però poi quando intervengono motivi di gusto e anche quando ci viene chiesto di distinguere, di riconoscere, facciamo un po' più di fatica. La risposta migliore che ho trovato, che è una banalità sconcertante, me ne rendo conto, è leggere, leggere tantissimo, è leggere più non posso, e magari leggere anche piano, prestando attenzione al suono, leggere rispettando, e questa è una chiave, i segni di interpunzione del testo. Anche se è un romanzone familiare che ci divora, e di cui vogliamo conoscere tutto, e quindi non ne possiamo più, vogliamo arrivare in fondo, e siamo avvinti dalla trama, e quindi mi verrebbe da dire che le virgole, i punti e virgola, i due punti ce li mangiamo. E invece, ecco, se vogliamo fare i primi della classe, no, cioè leggiamo, e leggiamo piano, leggiamo in maniera consapevole, ad alta voce, in maniera forse anche conservativa, cioè rispettando in tutto e per tutto, e qua forse Umberto Eco mi verrebbe da dire ha un fremito nella tomba, rispettando in tutto e per tutto le volontà dell'autore, cioè prestando ascolto alle variazioni, prestando ascolto alle virgole, alle pause, più o meno lunghe, affidandoci per davvero al suo giro di frase, non dubitandone, anche quando ci sembra che sia storto o sbilenco, anche quando ci sembra che ci porti su un piano inclinato che non sappiamo più dove andare, no? Ad esempio, è la magia di tantissimi scrittori che dopo righe, 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 soprattutto quelli che appunto subordinano, dopo tantissime righe ci lasciano con una sorta di labirintite, poi arriva un colpo di bacchetta magica e la frase all'improvviso prende chiarezza. Ecco, queste scritture, soprattutto quando abbiamo di fronte della letteratura che, insomma, ci piace definire alta, queste scritture ci chiedono una certa dose di fiducia, una certa dose di coinvolgimento, quindi diventa un po' difficile poi prestare segno, prestare attenzione ai segni di interpunzione mentre scrolliamo le storie o guardiamo TikTok, però è uno sporco lavoro e qualcuno deve più farlo. Adesso lo facciamo insieme. E lo facciamo insieme e partiamo, secondo me, da uno dei punteggiatori più amati e insieme più odiati, un punteggiatore ultradivisivo sia per il suo ritmo che per la sua voce. E le due cose sono inscindibili. Ritmo, punteggiatura, sintassi, calore, voce, giro di frase, in questo scrittore qui sono un tutt'uno, sono un blocco monolitico e unico. Si parla di Paolo Nori che è dell'uso smodato, è spericolatissimo, della virgola, ha fatto proprio un marchio di fabbrica, una cifra stilistica ultra riconoscibile. e l'uso della punteggiatura, quindi del ritmo, e qua usiamo queste due locuzioni davvero come fossero dei sinonimi. Per Nori è una questione di lingua, di passo, quindi la creazione di una voce che ha a che fare moltissimo e molto da vicino con l'oralità, che riguarda un certo tipo di parlato, anche emiliano, perché no? Un certo tipo di gergalità che ha modellato negli anni e anche di ripetizione insistita. E quindi quando si torna indietro, quando ci sono questi antirivieni continui, quando la pagina è così tortuosa, la virgola è essenziale. e adesso leggiamo insieme, prestando attenzione appunto a come suona, un po' di passaggi da un libro recente, non volevo andare troppo in là nella sua produzione, diciamo così, la New Wave noriana, da grandissimo esperto e conoscitore di Russia e di letteratura russa. E quindi ci leggiamo un breve passaggio da Sanguine Ancor. Vado. Uno scrittore russo, Vasily Rozanov, descrive Dostoevsky come un arciere nel deserto, con una faretra piena di frecce che, se ti colpiscono, esce il sangue. Ecco io la prima reazione che ho avuto quando ho capito di cosa parlava Dostoevsky in delitto e castigo, quando Raskolnikov, il protagonista, si chiede ma io sono come un insetto o sono come Napoleone? Ecco, quella domanda, io quindicenne, me la sono rivolta anch'io. Ma io, mi sono chiesto, sono come un insetto o sono come Napoleone? E ho avuto, me lo ricordo perfettamente, la sensazione è che quella cosa che avevo in mano, quel libro pubblicato 112 anni prima, a 3.000 km di distanza, mi avesse aperto una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Avevo ragione, sanguina ancora. Perché? Ecco, vedete come tra l'inizio di questo passaggio che vi ho letto, quello in cui, ecco io, la prima creazione che ho avuto, io, è Noriana al 100%, ed è proprio a inizio libro, anche quasi una ennesima conferma, un timbro che ne sigilla e ne ribadisce la poetica. Rispetto a quest'ultimo passaggio che invece abbiamo visto, io ho avuto, me lo ricordo perfettamente, la sensazione che quella cosa che avevo in mano, quel libro pubblicato, è molto più Noriano. Quest'ultimo passaggio lo definirei quasi normalizzato, perché in coda al paragrafo aveva evidentemente bisogno di velocità. Quindi da un lato abbiamo appunto la sua tradizione linguistica, di passo, di stile, dall'altro abbiamo un'istanza da ingegnere testuale. Leggiamo ancora un pezzettino, sempre da sanguino ancora, siamo poco distanti. Questo libro, attraverso il racconto dell'incredibile vita di Fedor Mikhailovich Dostoyevsky, ingegnere senza vocazione, traduttore umiliato dai propri editori, genio precoce della letteratura russa, nuovo Gogol, meglio di Gogol, aspirante rivoluzionario, miseramente scoperto e condannato a morte, graziato e mandato per dieci anni in Siberia a scontare la sua colpa. Riammesso poi nella capitale, quella Pietroburgo il cui mito, con le sue opere, contribuirà a costruire la più astratta e premeditata città del globo terraqueo, secondo una celebre definizione del suo uomo del sottosuolo. Giocatore incapace e disperato, scrittore spiantato, vittima di editori cattivi, marito innamoratissimo di una stenografa di 25 anni più giovane di lui, padre incredulo che scrive a un amico abbiate dei figli, non c'è al mondo felicità più grande, pazzo benedetto che mette per iscritto le domande che tutti noi ci facciamo e che non osiamo confessare a nessuno. Uomo dall'aspetto insignificante, goffo, calvo, un po' gobbo, vecchio fin da quando è giovane, uomo malandato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo così simile a noi che riesce a morire nel momento del suo più grande successo attraverso il racconto di questa vita romanzesca. Questo libro che crede di essere un romanzo prova semplicemente a rispondere a quella domanda. Perché? Perché sanguina ancora? Ecco, qui abbiamo attraverso l'uso insistitissimo della virgola una frase che si avvolge che non riesciamo più a seguire quanto dicevamo poco fa, no? A un certo punto ci perdiamo. Cioè pensare di isolare la frase, di fare un'analisi del periodo è un'acceleratezza. Qua noi ci affidiamo e seguiamo Nori come fosse la nostra guida di alta montagna. è un elenco con slittamenti del soggetto, antirivieni, dislocazioni, elenchi prima su Dostoievski, poi su che cosa è San Pietroburgo, poi ancora su Dostoievski, insomma ci perdiamo in un labirinto e ne usciamo benissimo con sempre la solita domanda. Perché sanguina ancora? Però, ecco, qui questo è un pezzo virtuoso di un grande stilista della punteggiatura e vediamo come l'uso smodato della virgola sia architettonicamente necessario. Ecco, adesso, visto che mi piacerebbe anche intentare un po' un gioco dei contrasti, passiamo a un proprio un altro campionato, un autore che la punteggiatura l'ha completamente o quasi bandita, dal proprio armamentario, si chiama Giuseppe Berto. Giuseppe Berto è un autore che io amo molto, il cui libro più conosciuto probabilmente si intitola Il male oscuro ed è una storia della... è la storia di un uomo che racconta la propria depressione e il proprio rapporto con la psicanalisi e quindi sotto questo grosso cappello tutta la sua vita. Ecco, dalle contorsioni di Nori abbiamo qui una pagina diversissima ve ne renderete subito conto perché qui in Berto i segni di interpunzione quasi non esistono è una similitudine una figura un po' spericolata ma mi verrebbe da dire che leggere Il male oscuro è un po' come guidare senza cartelli segnaletici senza indicazioni su dove fermarsi a chi dare la precedenza dove uscire se siamo in autostrada soltanto qui e là qualche sparuto e modestissimo semaforo che fa però egregiamente il suo lavoro perché la meraviglia della pagina di Berto è che pur rinunciando quasi completamente alla punteggiatura e quindi al passo e quindi al ritmo la pagina si tiene insieme comunque questo perché le congiunzioni svolgono il ruolo e fanno tutto il lavoro sporco dell'interpunzione e sono dei connettivi Berto in qualche modo infrange la narrativa e infrange la narrazione per restituire l'immediatezza l'immediatezza di un discorso che fuoriesce che è un unico e costante continuo tracimare e noi leggendolo siamo meravigliati perché è come se a proposito dell'affidarci di prima ci fosse una punteggiatura invisibile che noi più o meno intravediamo al penal di sotto del tessuto e dell'ordito della pagina adesso proviamo a vedere un esempio da qui ecco qua leggo una paginettina siamo prima della metà del libro così ora me ne stavo a casa convalescente e per lo più disteso sul letto inclinato all'indietro e quando sentivo avvicinarsi i dolori di quella specie ormai fin troppo nota telefonavo subito al mio amico assistente del celebre chirurgo e lui senza perdere tempo veniva a darmi una scrollatina per i piedi adesso che si poteva poiché la ferita sulla pancia si era rimarginata benissimo virgola finalmente e quando la scrollatina non risolveva il caso allora un'iniezione di morfina metteva tutto a posto per quanto provvisoriamente si capisce anzi siccome le scrollatine non è da dire che fossero molto spesso efficaci io talvolta non telefonavo nemmeno all'amico mio che le aveva per così dire inventate ma al medico di casa che infine era tornato da Chianciano tutto contento dopo la lunga stagione virgola e questo medico io sicuramente non tendevo a sopravvalutarlo ma era alquanto gentile e poi un'iniezione di morfina era capace di farla meglio di chiunque altro virgola però tutto sommato mica potevo continuare in eterno e a quel modo con i vocabolari sotto i piedi del letto e le scrollatine per le piote e le sempre più frequenti iniezioni di morfina a lungo andare perfino colui che aveva la massima responsabilità della faccenda cioè l'amico assistente del celebre chirurgo cominciò a mostrare qualche incertezza dicendo che lui non dubitava per niente della diagnosi fatta e delle elezioni connesse virgola ma ugualmente se io per caso e anche per prudenza andavo a farmi visitare sia pure ambulatoriamente dal suo celebre professore non facevo certo male tanto pareva che più di 15.000 lire ambulatoriamente non prendesse e così mi sarei tranquillizzato e lui pure si sarebbe sedito più tranquillo e così e così e così e avanti tutta fino all'infinito o fino a quando quest'uomo attraversa i mille inciampi della propria esistenza è invecchia con un uso minimo micragnosissimo delle virgole proprio quando abbiamo bisogno di prendere fiato perché non ce la facciamo più e non riusciamo più a leggere il testo ad altavoce ecco che anche in maniera molto puntuale Giuseppe Berto ci omaggia di una virgola l'architettura qua è invisibile abbiamo visto finora un esempio massimalista noi un esempio minimalista Berto e ci sono però anche altre diverse strategie espressive qua ovviamente passiamo in rassegna una serie di punteggiatori d'antan che si distinguono per una cosa o per l'altra poi vedremo anche in coda altre punteggiature più classiche più eleganti senza tempo un'altra strategia molto eversiva è quella di Mathias Senard un autore francese un altro degli autori che io amo molto che in zona uno dei suoi libri più belli ha deciso di rinunciare al punto fermo quindi come la pagina che abbiamo letto poc'anzi di Nori ma per un libro intero avvalendosi soltanto delle virgole quindi un unico interrotto e spiraleggiante flusso di parole di sintassi ecco a proposito dell'analisi logica di prima quanto a volte l'analisi logica e l'analisi del periodo debbano cedere il passo pensate costruire un albero a partire dal libro di zona di Mathias Senard proprio impossibile fisicamente avranno bisogno di un foglio gigantesco che credo sia non in produzione in Italia quindi un bel pasticcio e a proposito di pasticcio siamo arrivati a quel momento del nostro incontro in cui parliamo di Gadda e cerchiamo punteggiature personalissime come vedete la punteggiatura personalissima il ritmo personalissimo la sintassi personalissima molto spesso prevede un livello di consapevolezza tale che si lega a dei libri grandi a dei libri a loro modo canonici o comunque degli autori con un percorso e con delle cifre stilistiche vistosissime Gadda non solo ha lavorato sulla lingua come ha lavorato sulla lingua ma per quel lavoro che faceva lui per quel tasso di sperimentalità per per quella sua cifra così unica che ha segnato davvero il secondo novecento italiano e anche così antifrastica rispetto alle neoavanguardie insomma per la sua matrice teorica è chiaro che non potesse accompagnarsi un uso di interpunzioni una sintassia un ritmo regolare sciapo scolastico doveva avere un'impalcatura perché altrimenti tutto il suo ordito tutta la sua frase si sgonfia come un soufflé e come vedete è inscindibile il midollo della scrittura sta nella sua parte meno vistosa cioè nei segni di interpunzione che come diceva Leandro Zambra assomigliano alle sigarette cioè sono le sospensioni dalla vita leggiamo Gadda leggiamo dal pasticciaccio e rendiamoci conto di quanto la parola e le pause e il ritmo qua siano una cosa sola la confusione del son Filippo Revidente quel balbè due punti quel balbettare quel trasecolare due punti quegli sguardi così pieni di incertezza a non credere d'angoscia un sospeso che era interesse in tutti due punti tutti i castigliani lo guardavano a bocca aperta due punti lui la portinaia il commissario il fatto certo si disse in gravallo era che la portinaia nemmeno stavolta aveva veduto in viso il garzone due punti se il garzone era punto gli aveva veduto i tacchi e anche il diciamo la schiena due punti questo sì la professoressa Bertola virgola sì virgola che lo aveva veduto in faccia due punti era bianco due punti coi labbri bianchi due punti ma non lo aveva veduto altre volte non poteva dire nulla nemmeno lei anche l'assassino la sora Manuela finì per dover ammettere che neanche quello sarebbe stato in grado di conoscere no mai prima di allora non lo aveva visto mai punto un furmine punto esclamativo ecco questa è una sintassi personalissima che un maestro delle scuole elementari correggerebbe perché abbiamo aperture su aperture su aperture con i due punti regola scolastica vuole che l'interpunzione dei due punti apra a una spiegazione a un elenco e che però sia come un jolly all'interno di un periodo la possiamo usare una e una sola volta qua gadda invece fa esplodere tutto viola la norma perché un grande scrittore può farlo se lo può permettere su di noi su chi scrive su chi legge su chi sta imparando a scrivere io solitamente per non sbagliare consiglio sempre un po' di cautela in più però ecco questo per farvi capire e per ribadire quanto quando si arriva ad avere un livello sperimentale sulla lingua come quello di gadda poi possiamo fare un po' di tutto sempre tra gli stilisti come gadda vorrei anche ricordare il viaggio al termine della notte di Céline nella splendidissima traduzione italiana di Ernesto Ferrero che non leggeremo perché lo dico con candore non sono stato in grado di individuare una pagina abbastanza singolare come questa tra fila di due punti che abbiamo appena letto ma va valutato forse facendo qualche passo all'indietro e quindi guardandolo nel suo insieme un altro esempio di come la lingua sia legatissima al ritmo non esiste lingua senza ritmo senza sintassi per chi fa letteratura ecco adesso visto che ci avviamo verso la conclusione mi ricordano dalla regia che vi inizio a anticipare questa cosa possiamo potete anzi lasciare qualche domanda nel box che dovreste avere qui su YouTube e alla fine di questo nostro incontro io le guardo e ne parliamo e magari se siete ancora in diretta possiamo pure interagire quindi sarebbe proprio il massimo però adesso ci avviamo verso verso la fine e lo facciamo con cambiando modelli nel senso che adesso prendiamo qua intervengono proprio questioni di gusto molto mie molto personali e prendiamo la parte a pollinia finora siamo stati molto dionisiaci cioè abbiamo parlato di letteratura di ritmo di sintassi di interpunzione attraverso esempi forti nettissimi che ci restituissero idee altrettanto nette e forti di di come gli scrittori modulano e le scrittrici scusate modulano e modellano in base all'interpunzione e come la musica alla fine sosteneva Pascoli ed è stato il primo di una lunga serie a farlo che per lui prima venisse il suono cioè prima è tutta una questione di metrica quindi prima di scegliere le parole aveva già una filastrocca un ritmo una melodia in testa dopodiché è un discorso di ricerca linguistica di ricerca stilistica e le parole via via si addensavano si agglutinavano però prima di tutto c'è il ritmo e ci sono alcune scrittrici alcuni scrittori che il ritmo ce l'hanno dentro e che hanno un'idea di ritmo di compostezza come vi dicevo prima a pollinea e qua abbiamo a che fare con l'eleganza con la grazia con un certo modo virtuosissimo ma che non ha bisogno di urlare di usare i segni di interpunzione è il mio punteggiatore preferito ed è un autore a cui sono molto legato un autore tra l'altro riscoperto fortunatamente in questi anni ed è Daniele del Giudice qua vi leggo un passaggio magnifico da un libro magnifico che si chiama Atlante Occidentale che secondo me qualsiasi giovane scrittrice qualsiasi giovane scrittore dovrebbe sfogliare se non altro perché se siete alla ricerca di un modello di eleganza di esattezza di limpidezza della pagina ecco del Giudice c'è qua provo a fare una lettura un po' mista nel senso che del Giudice attinge a tutte le possibilità espressive dell'interpunzione di conseguenza quando sono piuttosto sicuro di farvi capire anche senza suggerire non dico niente quando invece voglio segnalarvi qualcosa in particolare mi perdonerete ma capirete che insomma non si tratta della prosa di del Giudice ma di una mia nota e l'ottavo capitolo inizia in questo modo posso invitarla a bere qualcosa in città aveva detto Epstein alzandosi dal tavolo dello studio Gilda aveva dato un'ultima occhiata ai fogli che stava leggendo virgola aveva detto due punti aperte virgolette in un posto elegante chiusi virgolette punto e virgola Epstein aveva sorriso due punti in un posto da tagliare certi giorni il lavoro finiva così di colpo punto e virgola magari Gilda aveva sollevato una questione importante ed Epstein restava in silenzio per un po' virgola poi diceva vengo con lei in città se mi da un passaggio e questo significava che il lavoro era finito e a seconda dell'ora potevano pranzare o bere qualcosa o avrebbero fatto soltanto la strada insieme se Gilda aveva altri impegni virgola poi Epstein sarebbe tornato a piedi a Belrive camminando e quando Gilda era scesa dalla sua stanza naturalmente non colta ieri Epstein era rimasto colpito una volta di più dalla velocità con cui passava dalla sua natura di donna alla sua natura di ragazza o viceversa solo cambiando il modo di prendere la luce virgola e questo gli sembrava uno dei suoi tratti più belli aveva aperto lo sportello della macchina per farla salire virgola aveva detto le dispiace se andiamo con la mia poi gliela lascio e lei aveva risposto no certo come mai abbiamo un appuntamento con il dottor Brahe e un suo amico aveva aggiunto Epstein mettendosi alla guida ecco vedete che spero anzi di essere stato in grado di restituire un po' di questa modalità espressiva di del giudice di questa innata esattezza e sembra che le virgole i punti e virgole i due punti siano nati prima del testo cioè che il testo non potesse che andare così nonostante ci siano scelte eclettiche alle volte ma elegantissime e anche minimal in una certa misura del giudice è un autore che non rinuncia al punto virgola è così io vi invito a fare ed è un autore che ricava la la sua lezione la sua ispirazione che vede in Calvino un suo grandissimo modello in Casinaudi parlando di autrici di autori che in una certa misura hanno avuto hanno avuto a che fare con le Inaudi o con la città di Torino in chiusura visto che insomma ci abbiamo al momento delle domande volevo segnalare ancora due modelli due fari da leggere da studiare da approfondire sempre uno se conoscete la scuola Holden vi sarà sicuramente caro ed è il modello di Natalia Ginzburg che ha articolato nel corso dei suoi della sua produzione dei suoi racconti dei suoi romanzi anche dei dei suoi saggi narrativi un uso molto peculiare molto scapro in una certa misura dell'interpunzione è un'altra di quelle come del giudice cioè un graffio una firma un testo di Natalia Ginzburg è riconoscibilissimo per la sintassi per il ritmo e quindi per proprio l'elemento fisico con cui la sintassi e il ritmo vengono regolate cioè i segni di interpunzione un'altra autrice sono contento di chiudere su di lei che usa i segni di interpunzione e ha un'idea di ritmo in letteratura piuttosto particolare Marina Iar che è stata un'autrice importantissima e appunto purtroppo un po' dimenticata negli ultimi anni Bonpiani attraverso la curatela di Marta Barone la sta ristampando questo è il primo dei libri di recente ristampati si chiama I padri lontani ed è racconto dell'infanzia di Iar è però anche una sorta di strano memoir tutto autobiografico attraversa con strani andi rivieni tutta la sua esistenza e ripercorre le speranze le aspettative le ambizioni le frustrazioni è un libro molto bello ed è soprattutto un libro molto scabro che credo non rinunci alle volte a essere quasi accigliato credo che in tempi di scritture spesso così pacificate semplici leggere libri accigliati che non si dischiudono subito sia un esercizio utile quindi vi leggo un ultimo passaggio da Marina Iar mentre ritorniamo a casa dopo la visita all'autobus nostro padre e nostra madre litigano punto non vanno d'accordo punto la colpa è di lui che grida forte virgola ma non si correggia non ci mette un minimo di buona volontà e la mamma deve lavorare molto per pagare tutti i conti punto lui va due volte all'anno a Parigi a divertirsi non vanno d'accordo punto e virgola non sono mai andati d'accordo quando trovo una vecchia cartolina scritta da mia madre in cui racconta ai suoi genitori che io sto seduta sul seggiolone li guardo virgola lei e Sammy virgola mentre franzano virgola mi sembra che essa stia raccontando di altri il loro disaccordo è un fatto quotidiano di cui mia sorella Sisi e io parliamo ogni tanto come si può andare d'accordo con uno che va due volte all'anno a Parigi a divertirsi che dorme di giorno che non paga i conti e che grida la cuoca dice alla cameriere che lui ha picchiato la mamma ma questo non lo credo poi però quando lui incomincia a gridare temo sempre che avvenga la mamma è molto coraggiosa gli tiene testa quando lui grida d'altronde tiene testa a tutti persino i doganieri mentre frugano nelle nostre valigie lei l'insulta ecco è chiaro che da una lettura tra l'altro nemmeno professionale come la mia a volte sia più difficile arraffare lo specifico e il genio di un testo però è una questione ed è con questo che vi vorrei salutare prima delle domande è una questione di andamento di ritmo e di improvvise accelerate di tentennamenti di pause di sussulti la letteratura ha in sé storicamente una matrice teatrale ha in sé una fisicità una corporeità e io sono profondamente convinto anche se non ho ancora capito bene come dirlo sono profondamente convinto che questa corporeità siano le virgole i punti virgola i punti esclamativi i tre puntini di sospensione i due punti sia il ritmo sia la melodia il suono e la musica perché è con il ritmo con la melodia con il suono e con la musica che si costruisce una pagina ed è l'architrave silenziosa e spesso sacrificata di tutta la letteratura quindi chiuderei prima di chiacchierare un po' con voi chiuderei con un appello cioè vogliate un po' di bene per favore alle vostre virgole e cercate di usarle secondo coscienza innanzitutto ma anche con molta moltissima personalità perché se lo meritano quindi coccolatele e adesso vediamo un po' se ci sono domande ci sono domande wow allora Francesca dice oltre all'esattezza restituisce il modo esemplare in modo esemplare il vivere dei protagonisti nella loro interazione sembra di essere lì si riferisce a Gadda grazie mille per averlo appuntato si sembra di essere lì e ha a che fare da vicinissimo con l'immediatezza con le pause con un certo indugiare su una scena del crimine strana di cui non sappiamo bene e lo stesso Ingravalo non sa benissimo cosa pensare è un pasticciaccio tutti c'entrano e nessuno c'entra poi come sappiamo sulla letteratura di Gadda il giallo è pretestuoso perché il giallo è un paravento che poi ha tantissime altre cose e delle lucubrazioni a una letteratura vertiginosa però sì siamo in un appartamento c'è una vittima e questa continua ricerca di verità ecco se vogliamo fare un volo pindarico ci viene restituita da questo accumulo sintattico dato dai due punti è come se fosse fortissima distanza di una certa chiarezza che poi tra l'altro non arriva neanche Amalia dice nella narrativa di largo consumo noto che c'è un uso classico della ponteggiatura forse l'attenzione stilistica della ponteggiatura è solo per certi autori leggermente più impegnati sì nel senso che c'è una narrativa che tu hai ben definito di consumo in cui gli autori stessi non presentano ai loro lettori né ai loro interlocutori in fase di lavorazione del libro di scrittura di progettazione del libro delle particolari istanze stilistiche la narrativa di consumo è una narrativa che io trovo dignitosissima e che alle volte amo leggere e non va demonizzata ed è una narrativa il cui obiettivo primario è quello di farsi capire di divertire di intrattenere è chiaro che sarebbe un'utopia pensare di intrattenere con il pasticciaccio di Gadda un'utopia bellissima come si suol dire è un'utopia non è una distopia però insomma bisogna rimanere soprattutto se si lavora in ambito editoriale con i piedi ben ancorati per terra e in questo senso è fondamentale avere per la narrativa di consumo in cui l'autrice l'autore non ha belle età stilistiche non ha un ragionamento così profondo è fondamentale avere una sintassi buona un ritmo buono comprensibile diretto immediato e quindi un uso classico della punteggiatura mi verrebbe da dire corretto nella migliore dell'accezione possibili non d'autore mi rendo conto che possa sembrare un ingorgo ma corretto e secondo me tanto basta Marco scrive se nel contestare una contravvenzione dei vigili urbani scrivo furto legalizzato posso ritenere a ragione che le virgolette diano il valore che l'espressione non sia da prendere alla lettera sì Marco assolutamente stai sfumando con molta intelligenza tra l'altro e di questo ti faccio i complimenti e sarebbe interessante aprire il dibattito anche a un giurista se è in sala cioè il vigile urbano può impugnare se abbiamo queste virgolette che attenuano sfumano e ingentiliscono il furto legalizzato io credo e spero che non lo possa impugnare ah Francesca dice che è l'esattezza di del giudice ma sì vale per entrambi ecco su del giudice ed è bello chiudere con del giudice il discorso è proprio legato all'esattezza ci sono tanti modi per interpretare il ritmo l'interpunzione il mio preferito è quello di del giudice ed è quello di Calvino e scorre sotto pelle insomma è così e non può che essere altrimenti e forse è un'ambizione enorme un assalto al cielo che però se siete scrittrici o se siete scrittori io vi consiglio limatela questa pagina continuate a lavorarla continuate a leggervela ad alta voce nel momento in cui avrò raggiunto un esito davvero soddisfacente allora avrete la vostra frase rifinita oliata e ben fatta però deve essere un'istanza che vi sentite un po' dentro è una rincomposizione per padroneggiare ritmo sintassi melodia musica bisogna leggere tantissimo quindi io sono molto contento questa sera di avervi portato un po' dei libri che amo dei libri che ritengo ammirevoli e mirabili per una serie di ragioni tecniche per una serie di ragioni affettive e per una serie di ragioni proprio di ammirazione mia di lettore spero di non avervi annoiato troppo spero che vi siate divertite e divertiti nelle domande non ho letto particolare Flame quindi sono molto contento perché non ho detto cose polarizzanti o non ho inneggiato a cose cui non potevo inneggiare e questo mi sembra già un ottimo risultatone vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato e in coda vi dico che a partire da fine gennaio ma trovate tutte le informazioni dettagliate sul sito della scuola Holden io otterrò un laboratorio per Holden over 30 qui alla scuola dal vivo che si chiama un titolo molto semplice neutro e difficile da dimenticare editing il che vuol dire che dal vivo con la matita la carta e la gomma da cancellare editiamo insieme dei testi e parliamo un po' della teoria dell'editing insomma ci divertiamo tantissimo per tre weekend sabato e domenica quindi se questa nostra chiacchierata vi ha dato qualche spunto qualche curiosità potete possiamo approfondirla ancora vi ringrazio moltissimo per essere stati con me passate una buona serata e buon Natale ciao grazie a tutti